Un aiuto, un incentivo insomma a recarsi in centro e non solo per la stagione dei saldi sulla quale immagino post pandemia, proviamo a dire così, insomma i commercianti ci contano molto. L'iniziativa che abbiamo promosso insieme ad Atam e all'amministrazione comunale è quella di prevedere una riduzione del 50% delle tariffe utilizzando l'applicazione di Atam in tutti i parcheggi tranne quelli con le sbarre diciamo ma quelli lungo la strada del comune di Arezzo. Quindi non riguarda solo il centro storico, riguarda tutte le strade in cui ci sono dei parcheggi a pagamento e questa riduzione del costo crediamo che sia un stimolo, un incentivo a recarsi appunto a fare acquisti in tranquillità. Con la stessa spesa sostanzialmente si può stare il doppio del tempo e quindi crediamo che sia diciamo uno spunto positivo. L'applicazione si chiama Atam Parking, quindi è l'applicazione ufficiale di Atam che permette in maniera molto semplice, molto intuitiva di pagare la sosta ma anche di prolungare la sosta e in automatico tu prendi lo sconto del 50% per tutto il mese di luglio. È importante perché questo è un modo concreto per essere vicini, quindi questa è la tecnologia che Atam ha messo in campo, in questo caso ha anche un vantaggio economico concreto perché risparmi il 50% sulla tariffa. Quanto ci si conta su questi saldi estivi? Speriamo parecchio, speriamo che non solo nei saldi ma anche nel dopo, però già anche questo accordo che abbiamo fatto aiuta anche la città a portare dentro la gente, aiuta anche la gente a risparmiare e commercianti a avere un qualcosa in più. Quindi speriamo bene. Farete insomma, perché poi le persone vogliono sapere anche questo, degli sconti importanti fin da subito, la politica ovviamente dei saldi in genere è un po' variabile, però il periodo è particolare. Sicuramente molte categorie che sono state in difficoltà sicuramente inizieranno con dei sconti importanti, è ovvio che ognuno farà quello che può insomma e che ogni settore è diverso, però sicuramente ci saranno sconti importanti. Tutte le associazioni di categoria stanno facendo di tutto per far ripartire questa città dal loro punto di vista. Questa è un'ulteriore iniziativa, è un'iniziativa come dire duplice perché da una parte dà una mano al commercio, dall'altra si pubblicizza fra virgolette un'app che giusto per il video di Tiziano Di Paolo andrebbe scaricata perché è assolutamente eccezionale. Vorrei dire che citando Tiziano, che chi non la scarica è un suo mano da corsa.